Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. L'attrice Franca Bettoja, nota per il suo matrimonio con Ugo Tognazzi, è scomparsa all'età di 88 anni. Nata a Roma il 14 maggio 1936 nel 1972, ha unito il suo destino a quello di Tognazzi, con il quale aveva già lavorato nel film Il fischio al naso del 1967. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Gianmarco nel 1907 e Maria Sole nel 1971. Dopo le nozze, la sua presenza sul grande schermo è andata progressivamente diminuendo, con la sua ultima interpretazione nel 1993 nel film Teste rasate di Claudio Fragasso, dove ha recitato il ruolo della madre del personaggio, interpretato dal figlio Gianmarco. Grazie.